Ora, rivolgete il nostro riguardo alla Madonna, la invochiamo con la preghiera delle litanie con cui da sempre la Chiesa la invoca. E nei diversi titoli scopriamo la bellezza. Prega per noi. Figlia prediletta dal Padre. Prega per noi. Madre di Cristo, Re dei secoli. Prega per noi. Gloria dello Spirito Santo. Prega per noi. Verdine, mite e docile. Prega per noi. Servo obbediente nella fede. Prega per noi. Madre del Signore. Prega per noi. Cooperatrice del Redentore. Prega per noi. Piena di grazia. Prega per noi. Fonte di bellezza. Prega per noi. Tesoro di virtù e sapienza. Prega per noi. Frutto primo della redenzione. Prega per noi. Discepola perfetta di Cristo. Prega per noi. Immagine purissima della Chiesa. Prega per noi.